L'ospite l'avete riconosciuta, la dottoressa Antonia Ricci, direttore di studio zooprofilattico e quindi colei che sequenzia e sa tutto di queste novità, l'assessore Lanzarì e quindi oggi la dottoressa Ricci ci parlerà della variante Omicron, della sequenziazione, la prima fatta in Veneto e tra le prime in Italia fatta appunto dal suo team e poi di qualcosa di entusiasmante e di molto avveneristico, ovvero che hanno deciso di coltivarla, sta variante, e farle assaggiare i vaccini e vedere come si comporta. Quindi ci facciamo anche i test in casa. Detto questo però prima c'è la parte diciamo quella ufficiale che tutti si attendono che è quella del bollettino con due brevi riflessioni. Scusate, eccola. Allora, tamponi. Tamponi sono molecolari sono 7.746.697 e i test rapidi sono 11.601.827. In totale siamo praticamente quasi a 20 milioni di test perché sono 19.348.000. Considerate che si galoppa velocemente verso i 20 milioni perché ne facciamo tanti ogni giorno di test. Positivi nelle ultime 24 ore, 2.960. Quanto valgono questi positivi? Su 122.000 tamponi, 122.097, sono il 2,42. Allora, qui spiego una roba su questo dato. La media della positività sui tamponi che è riportata da una tabella che ogni settimana viene fatta dall'Istituto Superiore della Sanità, che dice ogni regione quanti tamponi ha fatto e parallelamente quanti positivi ha fatto e dalla percentuale. Allora, la media nazionale della tabella di questa settimana è 2,4%. l'Italia ha 2,4% dei tamponi che fa positivi. La media del Veneto è 2,3%. L'Emilia-Romagna 3,8%. La Lombardia 1,8%. Poi ce ne sono anche con 7% di positivi sui tamponi. C'è una tabella. Lo dico perché dobbiamo quotidianamente spiegare che non bisogna guardare il numero dei positivi, ma la percentuale dei positivi sui tamponi. Se vado a pescare con la canna da pesca o una lenza posso prendere un pesce alla volta. Se vado col peschereccio con la rete a strascico ne pesco sicuramente più di uno a ogni giro. Però questa tabella che fra l'altro oggi a questo punto diffondiamo, che è qui, ve la guardate una volta per tutte, chissà che sia chiarita. Per non ritrovarsi come l'ultima volta, la domanda è come mai avete tanti positivi. C'è una tabella che lo dice, che non sono tanti, sono in percentuale addirittura sotto la media nazionale. ISS. È pubblicata, questa è ufficiale. Se la diffondiamo per favore, grazie. Numero dei positivi da inizio della crisi, 535.251. Questo è dal 21 febbraio 2020. Ad oggi i positivi sono 40.648. Andiamo sui ricoveri e guardiamo bene questi dati. ricoverati totale 904 persone. È innegabile che si stia assolutamente affrontando giorno dopo giorno un'ascesa importante. Sono un centinaio di pazienti al giorno. Più 82. Come sono distribuiti questi 904 pazienti? 772 sono in area non critica, più 72, e 133 in terapia intensiva. terapia intensiva che però vorrei farvi vedere ha questo dato. Cioè sono praticamente 432. Se non ho sbagliato il calcolo, sì, non l'ho sbagliato. In totale sono 432 persone nelle terapie intensive, covid e non covid. Decessi, 9, che ci portano a 12.014. Siamo ancora all'ottava regione in Italia per mortalità. Ovvio che se sempre col principio di andare a guardare il numero puro, non torna al conto. Stiamo parlando di percentuale di morti sugli abitanti. Tu non puoi confrontare i morti del vento con quelli del Molise. È ovvio che Molise ne avrà sempre di meno. Devi guardare il percentuale di morti sugli abitanti per capire chi ha avuto più mortalità. Dimessi in totale 24.353. Che ancora una volta, ripeto, visto considerato l'adagio di dire che si possono curare tutti a casa, questi signori non avrebbero avuto alternative se restavano a casa. E sono pazienti di un po' di tutti i medici del Veneto. Fondamentalmente, fra l'altro, vi ricordo che se prendessimo questi 24.000 e li dividessimo per 3.000, che sono i medici di base, vorrebbe dire mediamente 8 pazienti per medico di base. Allora, stamattina abbiamo fatto una lunga riunione con i direttori generali. Vi faccio vedere, stavolta e l'altra volta vi ho portato delle tabelle, adesso vi ne porto di differenti. Tasso di ricoverati su 100.000 abitanti ad ogni settimana. Li vedete gli histogrammi rossi? Vedete che c'è anche quello verde. O il rosso è il non vaccinato, il verde è il vaccinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo l'ultima settimana sono 15 qua. No, 12, 11 forse. Sì, sì, è su 100.000. Eccolo qua, fatto. Questa settimana, 191,8 su 100.000 i non vaccinati, ricoverati, e 31,8 su 100.000 i vaccinati. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quindi, 6 volte maggiore è l'impatto dei non vaccinati nei ricoveri. Poi abbiamo anche un'altra tabella che vi lascio. Gli histogrammi rossi, ovviamente, diciamo, le barre rosse sono sempre i non vaccinati, per età. Quindi vi lascio queste due tabelle per le vostre riflessioni. Cosa vi dico? Vi dico che noi siamo in una situazione assolutamente ai limiti, perché abbiamo ormai delle realtà tipo Padova che va in F3, Treviso che ai bordi e altro. Abbiamo Belluno, abbiamo ovviamente una grossa difficoltà dal fatto che la nostra campagna di tamponi, a proposito, siamo primi per tamponi a livello nazionale. Sempre una tabella che vi diamo? No, ma possiamo andare tranquillamente a quella di prima? Vedete che noi siamo quelli in assoluto che fanno più tamponi a livello nazionale. Anche questo, finalmente. Vi ricordo che tutte le settimane c'è stata bella negli allegati del bollettino ISS. Allora, noi siamo impegnati fortemente sulla fase della diagnostica, quindi degli screening, e crediamo molto che questo ci aiuti. È innegabile che il fronte delle scuole ci stia mettendo a dura prova, perché comunque lì c'è una mole di... ad ogni contagiato c'è una mole di tamponi e di contact tracing da attivare, che è poderoso. Dall'altro abbiamo in generale un accesso ai centri tamponi che è, diciamo, come si può dire, sicuramente straordinario. Voi vedete che ormai siamo sempre sopra i 100.000 tamponi al giorno. Tanto per darvi una dimensione, l'anno scorso, in questo periodo, facciamo circa 53.000-55.000 tamponi al giorno. Ovviamente i tamponi che facciamo sono molecolari, quindi 25.000-26.000, e il resto li dobbiamo fare antigenici perché non c'è modo di farne altri dimolecolari. Allora, ci stiamo attivando per l'apertura dei Covid Hospital. In via preventiva, in alcune realtà non tanto preventiva, ad esempio Padova con schiavonia sarà un problema. ma so che c'è come al solito la manifestazione contro il Covid Hospital, come se noi ci divertissimo a trasformare gli ospedali. Ricordo che non c'è solo schiavonia, c'è San Camillo Treviso, c'è Jesolo, Santorcio, Villa Franca, insomma, ovviamente noi abbiamo attivato, c'è una lista, ve la possiamo dare, ovvio che non saranno tutti attivati, questo è poco ma sicuro, però abbiamo dato l'ok affinché, colta la necessità, ci sia già il benestare a monte per attivare, posso dire che Treviso lo attiverà il 9, tanto per dire, schiavonia penso che sia questione ormai di ore. Alternative non ce ne sono, lo vorrei spiegare a quelli che pensano che sia sufficiente, cioè è come spolverare, no? Sposti la polvere da un punto all'altro, cioè non è che ci sono alternative, abbiamo già capito, questi sono pazienti molto complicati, con una patologia che ha bisogno di cure intensive e di alta qualità, non è che possiamo pensare di metterli nell'ex ospedale di Monserice chiuso, l'ex ospedale di Monserice utilizzeremo per altre cose, o nell'ex ospedale di Valdobbiadene chiuso, perché non è proprio così semplice, perché c'è un sistema di cure intensive, che è un sistema che prevede che tu debba avere tutto, dall'attacca, le risonanze, le pneumologie, le infettive, cose che tu non riesci a portare in ospedale dismesso, per quanto tu lo possa modernare. Sale operatorie, eccetera. Allora, noi abbiamo questo, e dall'altro ovviamente si inizia con una breve contrazione, con piccola contrazione, di alcune prestazioni, ad esempio i week surgery, cioè quindi le operazioni in elezione a fine settimana, vanno ad una contrazione. Questo è il segno dei tempi, è il segno del fatto che questo virus, pur placato dalla vaccinazione, pur placato dalla vaccinazione, questo è un dato chiaro, oggi si sta nuovamente mettendo sotto pressione. Siamo ancora in una fase nella quale riusciamo a gestire. Abbiamo degli indicatori che ci dicono che questa settimana dovremmo ancora essere in zona bianca, diciamo la prossima settimana, si ipotizza che sia ancora da zona bianca, perché oggi l'unico indicatore che ormai fa limite, che è quello dell'occupazione in zona non critica, occupazione di posti letto in zona non critica, stamattina l'11%, bisogna essere 15% per passare in zona gialla. Gli altri due sono già a posto, perché vi dico già che le terapie intensive sono il 13%, quindi hanno già abbondantemente superato quel 10% che... sull'incidenza non ne parliamo neanche, cioè l'asolano ha 600% di incidenza, Treviso ha oltre 400%, cioè stiamo andando molto su con l'incidenza. Cosa significa? Significa che il vaccino ci dice si stanno infettando, un sacco sono asintomatici, perché abbiamo incidenze alte, non abbiamo ospedalizzazioni proporzionali in questa fase, però ci sono, ci sono quindi quarantene, ci sono interventi, che comunque voi apprezzate anche dei dati, quando tu vedi che hai 40.000 positivi oggi, a settembre ne avevamo 8.000, si capisce chiaramente che sta succedendo qualcosa. Quindi anche su questo fronte stiamo andando avanti, l'impegno è sempre quello delle vaccinazioni, vi do l'aggiornamento, intanto le vaccinazioni stanno andando bene, perché vi dico che ieri abbiamo fatto 47.463 inoculazioni, delle quali, ad esempio, prime dosi 3.702, considerate che il punto più basso era 1.000, un migliaio, quindi abbiamo triplicato, più che triplicato le prime dosi, dopo 41.000, quasi 42.000, sono state invece le terze dosi. Il totale delle inoculazioni ad oggi è di 8.037.000 dosi. Se vi interessano le terze dosi, siamo arrivati a 746.000 terze dosi. Insomma, avete il bollettino, quindi riuscite a vedere. La media regionale dei vaccinati o prenotati è dell'86,3. Quindi stiamo recuperando, diciamo, uno 0,1 ogni due giorni, più o meno. Quindi è verosimile che pian piano se continua così arriveremo al 90%. Però bisogna attendere i risultati. 12-19 anni sono il 76,1% di vaccinati o prenotati. 20-29 anni, l'85,2. Fra l'altro è una categoria che ha performato benissimo. 30-39 anni, 80,9%. Come i 40-49 che hanno 80,9%. I 50-56 hanno 86,4%. Scusate, i 50-59 hanno 86,4%. I 60-69 anni, 90,5%. I 70-79 anni, 93,4%. Gli over 80 siamo quasi alla quasi totalità. Ci sono ancora 650.000 persone in Veneto che si devono vaccinare. Over 12. 630.000 630.000 persone che si devono ancora vaccinare. E se guardate questi dati che fanno pensare, ci sono ancora il 10% di 60-69 anni che ancora non si sono vaccinati. E che poi purtroppo ritroviamo in corsia o in terapia intensiva. Perché se andate a vedere l'età dei non vaccinati vedete cosa accade. È verosimile con i dati che abbiamo oggi che la prossima settimana sarà bianca, quella dopo probabilmente sarà gialla. quindi quella dopo la settimana del quella di Natale. Quindi Natale in giallo. Natale in giallo che porterà restrizioni con l'uso della mascherina all'aperto e bypasserà le restrizioni della riduzione dei tavoli dei posti a sedere ad esempio nei ristoranti con il Super Green Pass. Fra l'altro mi è stata fatta anche un quesito sui matrimoni il matrimonio prevede il tampone matrimoni comunioni cresime prevedono ancora il Green Pass base per capirsi il tampone quindi lo dico anche al ristoratore che mi ha chiamato ieri sera che dà una verifica fatta solo le cerimonie quindi i matrimoni entrano con il tampone si fanno con il tampone quindi Green Pass base domande ragazzi allora cominciamo Filippo Tosatto poi Cristina Giacomuzzo e avanti buongiorno presidente buongiorno buongiorno per quanto riguarda la conversione immagino parziale degli ospedali in covid hospital quali ospedali saranno interessati e che cosa cambierà per i pazienti può dirci insomma qualche dettaglio in più anche sui tempi allora è una comunicazione preventiva perché 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 abbiamo una situazione eterogenea delle fasce no non è come l'anno scorso che siamo di fatto andati tutti in F3 nel giro di 24 ore c'è chi addirittura in F1 chi è ai bordi dell'F3 chi c'è già quindi diciamo attenzione che si partirà con il covid hospital dopo l'assessore Lanzarini vi farà mandare per il tramite l'ufficio stampa la lista degli ospedali c'è ci sarà chi parte prima chi parte dopo schiavonia sarà uno di quelli che parte prima San Camillo Treviso partirà ce ne saranno altri con gradualità fra l'altro non è che si prende si sposta di fatto tutto quello che c'è nella speranza di non doverlo mai fare però noi dobbiamo comunque prepararci anche al peggio se dovesse arrivare come abbiamo sempre fatto in questi mesi ecco per quanto riguarda la contrazione di prestazione lei ha accennato al week surgery e poi l'assessore vi dà aggiornamento prego allora come diceva il presidente in base alle varie fasi scatta il piano la fase 3 è quella che prevede di concentrare alcune attività solo negli hub quindi negli spoke vengono già diminuite che sono tutte le attività appunto dei week surgery e anche la contrazione di alcune altre attività che possono essere quelle specialistiche a 30 o a 60 giorni oggi siamo nella situazione appunto come diceva il presidente che solo la USL 6 è nella fase 3 quindi scattando il primo elemento che scatta con l'individuazione del covid ospedale di scavonia in questo senso è quello che non è più garantito l'emergenza urgenza come adesso quindi il pronto soccorso ma diventa un punto di primo intervento e le emergenze vengono dirottate in altri ospedali in azienda ospedaliera o in altri ospedali appena scatta questa è la cosa principale guardate che per noi sono scelte dolorose queste e non è che c'è una parte della barricata e l'altra parte cioè siamo tutti della stessa parte il problema è che noi abbiamo l'obbligo e questa è l'essenza della battaglia contro il covid che qualcuno ancora non ha capito perché il covid ci porta dove? a questo perché se poi tu guardi fuori e giri le spalle all'ospedale non c'è nessun problema ma dentro all'ospedale si stanno combattendo battaglie paurose c'è anche questa questa volontà di guardare un po' anche a cosa sta accadendo negli ospedali e il covid è un po' stato così cioè non abbiamo l'emergenza dell'anno scorso per ora vogliamo fare ancora più prevenzione e diamo comunicazione punto altro? Cristina Giacomuzzo Buongiorno è possibile avere il cruscotto con la fotografia delle varie posizioni così ci si rende un po' conto di quali sono più in ve lo mandiamo via whatsapp anche su whatsapp quindi ve lo mandiamo grazie poi volevo chiedere il flusso di prenotazioni dei vaccini e dei cambiamenti di date sono state importanti ci sono state quanto ha qualche numero da dare noi abbiamo 2 milioni di persone elegibili per la vaccinazione entro il 31 dicembre abbiamo oggi in agenda entro il 31 dicembre ancora nelle agende la possibilità di avere un margine del 20% di prenotazioni ancora non evase 21% 20% e nel gennaio abbiamo il 55% ancora di posti liberi in agenda abbiamo occupati quindi 45% di posti liberi in agenda a gennaio ovvio che magari ci sarà la programmazione di queste iniezioni però con un poche difficoltà perché capito un discorso è gestire centri vaccinali in una situazione come quella dell'anno scorso dove c'erano chiusure oggi le fiere per dire sono tutte aperte quindi le fiere noi non ce le abbiamo più fiera di Godega fine e altri palazzetti non possiamo più utilizzarli perché comunque ci hanno detto i comuni che hanno necessità di fare anche altre attività ci stiamo organizzando quindi diventeranno sempre più capillari nel territorio e si va avanti io ieri per dire ho fatto la terza dose a Godega l'ho fatta agli uffici fiera adesso il padiglione dell'ingresso fiera lo hanno allestito come un piccolo hub vaccinale piccolo sono sempre migliaia di metri quadrati prima invece l'hub vaccinale era nei capannoni della fiera e quindi aveva altre dimensioni due cose veloci ancora per la fascia di età 12-18 anni ci sono prospettive di date per il via del 5-5 però adesso si vaccinano dai 18 anni la terza dose è dai 18 anni non ci sono ancora informazioni stai parlando della terza dose l'ultima cosa sui monoclonali si sta avviando o è già avviata la sperimentazione comunque l'utilizzo dei monoclonali via intramuscolare e non più tramite e come stanno andando non è non è ancora avviata nel senso che noi abbiamo ancora l'infusione però è imminente peraltro i pazienti noi siamo ancora lì a trattarli con i monoclonali e metà dei monoclonali italiani utilizzati in Italia vengono utilizzati dal vento e funzionano parlavo del generale Figliuolo ci stiamo attrezzando anche per il tema della pasticca quindi delle compresse non so non so i tempi però so che sta lavorando anche su questo fronte ovviamente mi riferisco a quello che sono le scelte nazionali perché noi non possiamo comprare non essendo farmaci autorizzati perché se fossero a prontuario potremmo andare a comprarceli direttamente grazie allora adesso Pittarello poi Bonet poi Vanzan prego buongiorno buongiorno sono una domanda l'anno scorso con uno scenario diverso decisamente ci fu una sorta di programmazione nazionale diciamo delle feste quindi le fasce arancione e rosse in determinati giorni annunciava appunto che probabilmente il veneto andrà in zona gialla si è parlato a livello nazionale di una zona gialla nazionale o comunque un provvedimento no anche perché vi ricordo che questa classificazione bianco giallo arancione e rosso è figlio proprio dell'accordo trovato con la comunità scientifica a livello nazionale dopo la crisi dell'anno scorso l'anno scorso siamo arrivati che diciamo c'erano dei parametri che non venivano non erano soppesati a sufficienza per cui ci siamo trovati diciamo con più difficoltà quindi adesso c'è l'automatismo che viene solo attenuato dal super green pass ma l'automatismo della zona arancione ti dice che chiudi confini comunali e chiudi negozi quello della zona rossa vorrei ricordarlo non funziona col super green pass rosso è rosso cioè quando tu sei al 30% di terapie intensive super green pass non funziona più è tutto chiuso si va solo si esce di casa per lavorare o per estrema necessità allora siamo a Marco Bonnet sì presidente buongiorno altre domande allora intanto volevo capire se c'è un dato sui sanitari sospesi dopo l'obbligo non so se ce l'ha l'assessore lo recuperiamo ok l'altro è un dato statistico allora scusami sanitari medici sì no medici dopo l'obbligo della terza dose sì 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 che c'era l'obbligo anche per loro poi un dato statistico noi abbiamo diciamo così feedback tra le persone che conosciamo di diverse persone che hanno fatto le due dosi ma sono più resti a fare la terza cioè quasi che le due dosi in qualche maniera le hanno fatte due e basta e avanza abbiamo un dato sulle persone che dovrebbero aver fatto la terza dose ad oggi o al 31 dicembre e non l'hanno fatta ancora e quindi sono fuori dai cinque mesi no perché noi abbiamo guarda l'unico dato che abbiamo è questo abbiamo due milioni di persone che sono illegibili per la terza dose al 31 dicembre questo ve l'ho detto già due o tre volte sappiamo che noi riusciremo a derogare più o meno un milione e mezzo di dosi per il 31 dicembre quindi ne abbiamo 500 mila che comunque dovranno prenotarsi ad oggi le agende aperte fanno vedere code per le terze dosi tanto è vero che siamo già arrivati a 740 mila inoculazioni darti oggi un bilancio è difficile perché è in itinere e siamo appena partiti ma se dovessi ci acconservi due settimane di inoculazioni più o meno però ne abbiamo fatto andiamo verso le 800 mila cioè domani e dopodomani siamo oltre le 800 mila quindi sta andando velocemente oggettivamente però oggi il dato non ce l'ho diciamo che senza essere preciso il millimetro il sentimento è che chi deve fare la terza dose la sta facendo questo sì ci sarà sicuramente qualche abbandono come accade in tutte le robe però dire che questo diventi endemico e patologico no e adesso ciò ho pensato l'obbligo vaccinale per terza dose insegnanti scatta dal 15 di dicembre quindi non siamo ancora all'interno dell'obbligo ah siamo ancora dell'obbligo sì articolo 44 ad avanzan buongiorno buongiorno tornando un attimo indietro quando un ospedale viene dichiarato covid hospital quindi la prima cosa che cessa è il pronto soccorso e poi a scalare tutte le altre attività quindi sarebbero solo pazienti con covid vabbè i punti nascita sì voi sapete che abbiamo lasciato la dialisi insomma le dialisi sto pensando ad esempio a schiavonia o santorso cioè si lasciano dei presidi il punto nascita di solito resta il tema dei dializzati e anche il tema degli oncologici però diciamo la parte dell'aggredita qual è? la medicina le infettive beh le infettive non se ne parla perché poi abbiamo un altro problema che oggi mi sono dimenticato di dirvi che siamo letteralmente invasi da malati che non sono covid ma sono malati da influenza quindi da malattie respiratorie abbiamo molti anziani ricoverati per cui noi abbiamo una pressione che non è una pressione da poco però diciamo i reparti vengono aggrediti con gradualità sempre nella speranza di non arrivare ai livelli top che abbiamo già raggiunto che sarebbero vuol dire che insomma vuol dire che si va nuovamente a paralisi certe stazioni che forse richiedono la terapia intensiva chiaramente devono essere contratte perché dobbiamo riservare le terapie intensive per il covid ospite sì poi c'è un altro tema perché questa zona il tema che noi abbiamo quattro punti di vaccinazione in meno ok ci sta tutto però se guardate la cartina dell'ACDC forse ce l'ho anche qui se guardate la cartina dell'ACDC sì ce l'ho guardando la cartina si capisce subito che il posizionamento del Veneto è un posizionamento diciamo di una regione che è letteralmente circondata questa è la cartina del CDC dell'Europa lo vedete marrone più scuro questa è zona off limits ormai vedete noi dove siamo che siamo ai bordi che la Slovenia sia off limits non vuol dire che il Friuli se la passa meglio che anzi è già dentro piuttosto che noi cioè noi purtroppo abbiamo sta pressione dal centro Europa e dal nord Europa che altre regioni non hanno quindi noi siamo anche oggettivamente un po' terra di frontiera rispetto a questa infezione europea e come l'anno scorso si sta ripresentando l'altra domanda presente riguarda i tamponi per i ragazzi che vanno a scuola e che non hanno il vaccino che i genitori non li hanno vaccinati fino ad oggi possono andare in classe senza niente non serve il green pass base non serve il green pass rafforzato e quindi non hanno bisogno neanche di tamponi ma se usano i mezzi pubblici invece hanno bisogno del green pass base quindi anche solo il tampone motivo per cui abbiamo assistito a delle code abbastanza lunghe anche nel Trevigiano ieri 6 ore di attesa le regioni compreso il Veneto immagino hanno chiesto al governo di rivedere questa prescrizione ci sono possibilità che sviluppi ci sono e che risposte avete avuto? al momento no news io l'ho detto per primo quando si applicano piani di sanità pubblica è inevitabile che a volte ci siano dei cortocircuiti non ci sta e questo è uno di quelli il ragazzo va a scuola senza nessuna certificazione non può avvicinarsi all'autobus che lo porta a scuola perché altrimenti se non ha le certificazioni cioè se non ha il tampone non ha il green pass base o quello che è io penso che dobbiamo partire a ritroso cioè il diritto allo studio garantire il percorso da casa alla scuola e fare in modo di risolvere questo problema dopodiché è ovvio che l'invito alla vaccinazione è sempre è sempre sollecitato e presentato però nel rispetto delle idee di tutti ho guardato io adesso mi criticano perché parlo contro l'obbligo vaccinale ma io non è che ce l'ho con i vaccini voglio solo dire che l'obbligo vaccinale cioè proposto come vedo che si propone rischia di essere presa in giro cioè se in Germania ti dicono che hanno introdotto l'obbligo vaccinale permesso che in Germania hanno anche vaccinato poco ma se l'obbligo vaccinale è quello tedesco cioè sopra i 60 anni ti vaccini oppure se ti imbecchiamo in giro paghi una multa di 100 euro al mese mi sembra sia cioè non mi sembra l'obbligo vaccinale ma non lo è neanche quello nostro per i medici perché se l'obbligo vaccinale è l'obbligo è l'obbligo di avere una popolazione vaccinata aumentata tu allora non puoi chiamare l'obbligo vaccinale una roba che se non ti fai vaccino stai a casa non lavori quello non è un obbligo vaccinale cos'è sta roba è un'alternativa vaccinale non lavoro e non mi vaccino ma non c'entra niente con la sanità pubblica quindi io dico semplicemente invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale perché fa anche fa anche cassetta dirlo no e lo dice uno che crede nei vaccini ci volete dire come si applicerebbe l'obbligo vaccinale in Italia dopo che c'è sempre quelli che hanno difficoltà a capire che scrivono nei social che io ho proposto il TSO per vaccinarli però fin l'anno che arrivo nel senso che io ho detto che immagino che non facciano il TSO immagino lo scadisco bene perché dopo passano un pomeriggio intero a insultare immagino che l'obbligo vaccinale in un paese civile non sia accompagnare con la forza pubblica una persona che non vuole vaccinarsi a vaccinarsi tanto meno provvedere al TSO per portare uno a vaccinarsi in un paese civile queste robe non si fanno è chiaro? lo dico anche il prete che ha scritto che si era fatto un fiato di confusione sì perché ormai qua tutti si occupano di vaccini cioè c'è chi legge il Vangelo dritto chi lo legge storto che di traverso ognuno dice la sua dopo allora questo questo è il problema il problema è che sull'obbligo bisogna essere chiari sulla fase post perché poi i vaccini li dobbiamo fare noi e ritrovarsi come al solito all'italiana che i più furbi non se li fanno vuol dire che diventa una presa in giro siccome poi rispondo io io vi dico in Veneto mi dovete dire chiaramente la procedura quando avete deciso la procedura in Veneto sarà qui ad applicarla ma la dovete dire uguale per tutti chiaro? bene se non ci sono altre domande per il presidente lascio la dottoressa Ricci e grazie e buon lavoro dottoressa prego c'è un'altra Omicron tra l'altro sequenziata stamattina a Padova 77enne però insomma adesso ne avremo notizie tutti i giorni se hai informazioni in più su questo caso di Padova abbastanza strano del 46enne con due dosi che è morto dopo aver rifiutato il ricovero la vicenda è veramente strana l'ho letta anch'io la notizia stamattina si tratterà di fare un approfondimento perché è rimasto a casa non ha rifiutato il ricovero però con due dosi però quindi veramente per età doppia vaccinazione veramente un caso molto particolare attenzione che quando quando leggiamo poi la dottoressa Ricci ve lo può dire con più precisione quando leggiamo che la risposta anticorpale di un vaccino è del 90 95 80 85% vuol dire che se è dell'80% 20% di quelli che si sono fatti il vaccino l'anticorpo non lo vedono ci bisogna vedere ci bisogna fare un titolo anticorpale capire cosa è successo che non rispondono alla stimolazione anticorpale cioè la stimolazione immunitaria che non dà non c'è risposta anticorpale quindi attenzione anche a questo però avete ragione vediamo di verificarlo ve l'ho letto anch'io stamattina questo caso però in riunione nessuno ne ha parlato scusi questo è il secondo caso di Omicron chi è? farà un comunicato dottor Dalbein è una signora di 77 anni che fratto è già stata trattata da monoclonale sembra sembra assolutamente gestita non va da Sudame da Sudame? no 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 questo è indicatore del fatto che come vi ricordate l'inglese l'anno scorso alla fine alla fine vi dirà la dottoressa Ricci che c'è ancora l'inglese di mezzo giusto? la delta ah si la delta si scusami la delta era l'indiana l'indiana non si può dire non si può dire indiana la delta neanche xi si può dire esatto e questo per dire che c'è anche una buona una notizia che dà un'idea anche di che frullatore sia sto virus perché in quella famiglia dell'omicron sono state delle novità grazie buon lavoro prego dottoressa Ricci eccoci qua buongiorno a tutti è sempre un piacere venire almeno vi vedo tutti contemporaneamente invece che individualmente allora sì penso che la notizia che in questo momento vi interessa di più sono i risultati rispetto alle analisi dei sequenziamenti sulla famiglia di questo paziente di Vicenza che sapete di rientro dal Sudafrica è risultato positivo alla variante omicron allora questo dato è confermato effettivamente si tratta di una variante omicron come abbiamo già segnalato e al momento abbiamo esaminato anche i tamponi della moglie e di uno dei due figli questa persona ha due figli un maschio e una femmina il maschio che è un po' più grandino non chiedetemi di precisoletà perché non la so sono risultati positivi abbiamo sequenziato il virus e si tratta di una variante delta quindi di una variante diversa rispetto a quella del padre questo dato che vi può sembrare particolarmente strano non lo è completamente andando a vedere le indagini epidemiologiche in quanto i colleghi dei dipartimenti di prevenzione che hanno seguito devo dire con molta attenzione e tempestività il caso ci hanno detto che in realtà la moglie e il figlio avevano qualche sintomo prima che il padre rientrasse dal Sudafrica quindi evidentemente loro si erano contagiati localmente con la variante delta che ad oggi continua a essere praticamente il 100% dei virus che noi isoliamo e sequenziamo in Italia e in Veneto anche mentre appunto il padre rientrato dal Sudafrica si è portato a casa la variante Omicron quindi all'interno della famiglia abbiamo due varianti diverse ma vi dico niente di così strano anche se devo dire inizialmente non ce l'aspettavamo sono in corso le analisi invece sulla figlia più piccola il campione ci è arrivato oggi per cui non ho i risultati li avrò sicuramente entro domani mattina o stasera è positiva anche la bambina e vedremo se si è infettata dal padre o sarà o dalla mamma esatto o da qualcun altro però insomma non ci aspettiamo varianti diverse anche perché ad oggi sono tutte delta quindi quelle che circolano quindi se la bambina si fosse infettata a scuola è così è probabile che sia una delta ma insomma non faccio previsioni aspettiamo a vedere di cosa si tratta e stanno tutti bene sintomi molto blandi e questo insomma conferma un dato completamente provvisorio che attualmente si trova anche nei comunicati delle CDC che dice che appunto ad oggi l'evidenza è che i casi di variante omicron sono dei casi lievi cioè non sono ad oggi stati segnalati casi gravi né tanto meno mortali ovviamente sono dati del tutto preliminare i casi sono molto pochi e soprattutto in paesi dove la situazione sanitaria il tasso di vaccinazione le altre malattie che producono indebolimento del sistema immunitario sono molto diffuse sono molto diverse insomma rispetto ai paesi europei quindi in questo momento si può dire proprio poco rispetto a cosa ci aspetteremo da questa variante in Europa però insomma al momento almeno il dato della gravità non è preoccupante posso dirvi insomma qualcosa in più le informazioni che ad oggi ci sono allora intanto come è emerso il sospetto che questa variante sia particolarmente preoccupante è nato da un lavoro sudafricano un lavoro scientifico sudafricano che peraltro oggi non è ancora pubblicato ufficialmente cioè si trova il lavoro in preprint ma non ha ancora passato tutti gli step di valutazione quindi sono informazioni che hanno ancora insomma un carattere un po' di provvisorietà e questo lavoro ha diciamo dimostrato che in Sudafrica diciamo hanno evidenziato un numero di reinfezioni non dopo vaccinazione dopo prima infezione più alto dell'atteso di quello che si aspettavano nel senso che hanno fatto un modello matematico e hanno simulato la probabilità di avere una reinfezione quindi qualcuno che si è preso la malattia e che dopo un periodo che va da un minimo di tre mesi a un massimo di 400 giorni si è reinfettato e dicono che rispetto alla probabilità di reinfettarsi dei pazienti che si sono infettati scusate le ripetizioni con la variante alfa e con la variante delta per la variante omicron questa probabilità è più elevata ripeto è un modello matematico che nasce dallo studio di un numero abbastanza limitato di casi di questa variante in Sudafrica ok quindi è tutto ancora da valutare però ci tengo a sottolineare che non si tratta di cosiddetti fallimenti vaccinali perché in Sudafrica il tasso di vaccinazione è bassissimo e questi casi che sono stati segnalati dai colleghi sudafricani ripeto sono casi di reinfezione dopo infezione naturale allora se voi tenete presente che in Italia si raccomanda la vaccinazione avete presente chi ha avuto il covid cosa deve fare deve vaccinarsi con una dose se ha avuto il covid da meno di sei mesi e addirittura con doppia dose se ha avuto il covid da più di sei mesi quindi per noi è assolutamente assodato che chi ha avuto il covid può reinfettarsi no addirittura dopo i sei mesi è come uno che non ha avuto il covid perché gli suggeriamo di vaccinarsi con due dosi quindi questa informazione rispetto all'omicron è chiaro che va valutata con assoluta cautela perché questo dato delle reinfezioni si associa a questo numero molto elevato di mutazioni che la variante omicron ha sulla proteina spike che ovviamente fa preoccupare rispetto alla tenuta della risposta anticorpale ok quindi è assolutamente corretto guardarla con attenzione tenerla sotto controllo e essendo una variante definita preoccupante dalle CDC è giusto cercare di ridurne la circolazione sul territorio ma da qui ad avere motivi particolari di preoccupazione secondo me ci passa ancora della strada e soprattutto avremo bisogno di molte più informazioni rispetto a cosa veramente questa variante farà nei nostri paesi europei o occidentali chiamiamoli così cioè dove le condizioni sanitarie il tasso di vaccinazione ripeto e proprio lo stato sanitario della popolazione sono molto diversi rispetto ai paesi africani quindi ci vuole pazienza e dobbiamo avere molte più informazioni ad oggi i casi ci sono in moltissimi paesi europei ma sono tutti nell'ordine di qualche decina ovviamente chi ne ha di più è sempre l'Inghilterra che sequenzia sapete tantissimo ma siamo sempre nell'ordine di 100 200 case insomma comunque numeri molto molto limitati rispetto a più di un milione di sequenziamenti quindi stiamo parlando di percentuali di omicron rispetto a tutti gli isolamenti di covid assolutamente in questo momento ridottissime ok quindi dobbiamo vedere poi alla prova dei fatti cosa davvero questo virus sarà in grado di fare ma insomma al momento non c'è motivo di pensare che i vaccini non funzionino potremmo avere come abbiamo avuto per la delta rispetto all'alfa una riduzione dell'efficacia dei vaccini no in termini percentuali però come abbiamo già visto fra la delta e l'alfa questa riduzione dell'efficacia è soprattutto a carico dell'infezione quindi oggi si dice che i vaccinati con doppia dose da più di cinque mesi hanno una probabilità ridotta del cinquanta per cento di infettarsi quindi comunque un livello di protezione buono ma sicuramente non eccezionale però sempre queste persone hanno una probabilità che invece arriva quasi attorno al 90% di non andare a finire in terapia intensiva e non morire e questo è l'effetto fondamentale dei vaccini che quindi come l'abbiamo verso l'alta verso la delta l'avremo anche verso l'omicron potremo vedere qualche punto percentuale di riduzione ma sempre in questi ordini di grandezza come per la delta assolutamente importante appunto il richiamo quindi la dose booster perché appunto come vi dicevo dopo cinque mesi e poi via via nel tempo allontanandosi dalla seconda dose l'efficacia effettivamente si riduce quindi è estremamente importante soprattutto verso queste varianti che sono un po' più capaci di aggirare la risposta anticorpale riattivare il nostro sistema immunitario con il richiamo perché è una misura che si è dimostrata assolutamente efficace nel ridurre sia l'infezione ma soprattutto la malattia e lo vediamo dai dati insomma io adesso dai dati che il presidente ha mostrato mi sembra che è vero siamo in un momento di preoccupazione perché il numero di casi sta aumentando ma se voi vi ricordate la situazione in cui eravamo un anno fa io ero più o meno qua un anno fa appunto poi a parlarvi di variante delta eccetera eravamo in un momento di buio cioè i numeri di persone ricoverate con malattie molto grave era altissimo io ve lo ricordo ci siamo viste io e l'assessore prima di entrare qui ci siamo guardate negli occhi dicendo cosa facciamo cosa succederà perché ve lo ricordate eravamo nel pieno della crescita esponenziale di un'ondata che non sapevamo dove sarebbe andata a parare ma non vedevamo solo il numero di casi vedevamo il numero di persone in terapia intensiva un numero di decessi ma veramente tremendo cioè oggi la situazione è completamente diversa adesso abbiamo una regione aperta tutti noi facciamo una vita sociale che io definirei uguale a quella che facciamo normalmente con una mascherina in più ma veramente con limitazioni pochissime si va al cinema in piena capienza i cinema erano chiusi i teatri erano chiusi i concerti non esistevano e avevamo dei numeri drammatici di persone che stavano malissimo e che rischiavano la vita oggi è vero vediamo aumentare il numero dei casi ma appunto facendo una vita normale e questo fa tanta differenza nella possibilità di contagio avevamo tutti i ragazzi in dad un anno fa oggi vanno tutti a scuola un po' sì un po' no ma insomma la maggior parte vanno a scuola e abbiamo è vero un numero di casi elevato ma ha un impatto sugli ospedali che è non paragonabile a quello che accadeva l'anno scorso quindi tutto questo è legato esclusivamente all'efficacia dei vaccini credo che nessuna persona che abbia una conoscenza scientifica e che si occupi di questo argomento possa dirvi qualcosa di diverso i vaccini stanno cambiando la storia di questa epidemia secondo me questo è un fatto molto positivo e altrettanto lo faranno per qualsiasi variante comunque sicuramente anche per la variante Omicron quindi stiamo a vedere siamo prudenti io raccomando a chi viaggia soprattutto in paesi a rischio ma anche non in paesi a rischio perché guardate che prendere anche un volo da un paese europeo verso l'Italia significa avere un'alta probabilità di avere in aereo seduto accanto a noi qualcuno che magari ha fatto scalo e può venire da qualsiasi parte del mondo quindi quello che io raccomando è quando ci troviamo in situazioni di assembramento anche sui mezzi pubblici ovviamente la mascherina è obbligatoria io mi sento di consigliare un FP2 quando ci si trova appunto sui mezzi pubblici comunque in situazioni al chiuso con alta densità di persone la mascherina FP2 protegge benissimo e quindi è uno strumento da utilizzare assolutamente in tutte queste situazioni e per chi viaggia rispettare le regole ovviamente per chi viene da paesi a rischio c'è un obbligo di tampone quarantena e di chiudere la quarantena con un tampone negativo e insomma io sento tanti che dicono sì ma poi nessuno mi controlla posso dire è ovvio cioè noi non abbiamo le forze dell'ordine che vanno a correre dietro a ogni singola persona che viaggia è anche una questione di responsabilità individuale non dobbiamo fare le cose solo per non prendere delle sanzioni ma perché ci rendiamo conto che in questo modo tuteliamo la nostra famiglia tuteliamo la comunità in cui viviamo quindi insomma questo secondo me è molto importante e appunto tutti coloro che ritengono di essersi trovati in una situazione a rischio possono fare un tampone stare in una situazione più controllata e comunque controllarsi i tamponi lo vediamo sono a disposizione in numero gigantesco e quindi insomma penso che non sia negato a nessuno fare un tampone prima di ricominciare la vita sociale in questo modo riduciamo sicuramente la circolazione del virus qualsiasi sia la variante perché questi mezzi la mascherina la quarantena ovviamente sono trasversali e funzionano contro qualsiasi virus anche quello influenzale per cui sono sempre un buono strumento di prevenzione che ormai abbiamo imparato ad usare e credo che si possa insomma utilizzarlo in modo intelligente ecco concludo solo dicendo quello che accennava prima il presidente rispetto al fatto che avendo avuto l'opportunità di avere una variante omicron in laboratorio ovviamente stiamo cercando di isolarla nel senso di farla crescere e moltiplicare il virus e questo ci permetterà di saggiarla contro diversi sieri di persone vaccinate guarite insomma nelle varie casistiche in modo da testare veramente quanto gli anticorpi naturali o vaccinali possano essere efficaci nei confronti di questo virus quindi dal nostro punto di vista aver avuto un caso di variante omicron è anche una bella occasione ovviamente per studiarla e per poter fornire quelle informazioni che oggi ancora mancano alla comunità scientifica se ci sono domande per la dottoressa Ricci si Alda Vanzan poi la Cristina Giacomuzzo se può spiegarci un po' meglio questo lavoro che state facendo con la variante omicron cioè che si riutilizzate utilizzate non so il Moderna Pfizer oppure il siero di una persona malata se ce lo spiega un po' più chiaramente allora è uno studio di cui poi abbiamo parlato oggi e quindi dovremo fare un disegno sperimentale e definire bene in questo momento noi abbiamo ricevuto oggi il tampone non inattivato perché quello precedente era inattivato e quindi della persona quindi dobbiamo isolare il virus e farlo crescere dopodiché definiremo uno studio sperimentale ma la cosa migliore è utilizzare serie di persone vaccinate con i diversi vaccini oppure che hanno avuto l'infezione naturale ovviamente in tempi diversi quindi valuteremo vaccinati con la terza dose da due o tre settimane vaccinati con due dosi vaccinati da più tempo infetti in diverse tempistiche quindi definiremo un disegno sperimentale in modo da coprire tutte le varie possibilità questo potrebbe alla fine dimostrare come si comporta il virus se può essere tra virgolette ucciso neutralizzato o se invece si fa un baffo di serie assolutamente sì io non mi aspetto che si faccia un baffo assolutamente nel senso che quello che noi normalmente vediamo e ci aspettiamo di vedere è appunto semmai un calo dell'efficacia nel senso che quello che si fa è utilizzare diverse diluizioni del siero metterlo contro il virus e vedere qual è la diluizione che a un certo punto non è più efficace ok ovviamente questo ci dà un'idea della quantità di anticorpi necessari per neutralizzare il virus che può essere diciamo l'efficacia può essere ridotta nei confronti di alcune varianti quindi vuol dire che per alcune varianti è necessaria una quantità di anticorpi maggiore per avere una neutralizzazione rispetto ad altre varianti quindi quello che noi ci aspettiamo è comunque una gradualità una diversità di efficacia assolutamente non ci aspettiamo che non ci sia copertura ma perché il virus è sempre quello non avrebbe senso pensare a una totale mancanza di copertura Cristina Giacomuzzo voglio fare la stessa domanda ma le chiedo una precisazione in più che tempi ci possono essere che tempi prospettati per arrivare ai risultati ci vuole allora sono studi lunghi nel senso che sia per avere il virus titolato che possa essere utilizzato per questi studi poi anche per farli quindi insomma sicuramente almeno un mese o forse anche un paio di mesi per avere dei risultati solidi con le altre varianti avevate fatto una cosa analoga abbiamo fatto anche degli studi di questo tipo sì e rientrano in quelli che sono i risultati che poi sono pubblicati in diversi studi rispetto appunto a questi punti percentuali di riduzione dell'efficacia altri colleghi vogliono intervenire sì Filippo Tosato non è un intervento è solo una segnalazione all'assessore Lanzarin ci sono persone che segnalano la presenza di soggetti esonerati dal vaccino che però sono a contatto con persone che magari devono ancora ricevere la terza dose o magari devono ancora ricevere la seconda allora queste persone dicono va bene l'esonero è previsto però siccome questi esonerati non sono neppure tenuti sembra al tampone non ci sentiamo troppo sicuri segnalano questa situazione perché dicono che avviene anche negli uffici regionali ecco io la riporto faccio una verifica non ho avuto questa segnalazione facciamo una verifica ho il dato dei sanitari sospesi nostri quindi vuol dire gli ospedalieri territoriali ad oggi 8 e 37 sui mi sembra i 50 mila no mi sembra che fossero 61 mila a memoria ricordo questo dato 61 mila vuol dire tutto quindi vuol dire medici o anche comparto quindi sia infermieri tecnici os insomma tutto complessivo tutti sia parte medica che parte del comparto quindi complessiva grazie e buon lavoro a tutti grazie 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 grazie